Salve a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo gameplay di Doran Red Come vedete dopo 6-7 mesi sono ritornato E ora vi spiego il motivo di questa grande assenza Principalmente ho avuto diversi problemi familiari E ho avuto problemi anche con il PC Prima di raccontarvi questi problemi Vi dirò questo che gioco sia In pratica questo è Monte Blade E sto facendo una partita casuale Ovvero questo gioco è un RPG In cui comunque tu decidi la storia del tuo personaggio E combatti in questo maestroso regno Che sono diversi regni che si combattono tra loro E tu puoi allearti a uno di diventare un vassallo di questi regni Oppure creare un tuo regno Ovviamente all'inizio non sei nessuno Quindi devi fare le cose pian piano E poi puoi ingrandire il tuo esercito Oppure diventare qualcuno più in là Dunque a parte ciò volevo dirvi che A parte parlato di questo Comunque questo è l'assalto È una partita a caso Sto facendo una partita a caso di questo gioco Solo per raccontarvi i diversi problemi che ho avuto In questo periodo Perché non ho registrato Ora ve lo spiego Per due mesi ho avuto problemi a PC Ovvero è saltata la corrente Ed è capitato che si è bruciato l'hard disk Che già dava un po' di problemi E per due mesi sono stato comunque senza PC Poi ovviamente più in là Ho comprato l'hard disk da 1TB E come avevo detto in episodi precedenti Che avrei preso comunque un hard disk da 1TB Giusto per fare gameplay migliori di qualità Posso impegnarmi di più Posso farlo più lungo Quindi fare più tagli Modificarlo bene Ora che posso farlo Ovviamente lo farò E quindi a parte ciò Volevo dirvi gli altri problemi Avere quelli familiari Ci sono due problemi in famiglia Che uno è stato È una cosa molto grave Personale Quindi non posso dirvela Però comunque questa cosa Come potete immaginare Essendo grave Già potreste capire Di cosa si potrebbe trattare Per invece un'altra cosa Che sono stato Non ho avuto internet per 4 mesi Ho la chiavetta E sto registrando con quella Caricolò gli episodi con quelli E per il momento non ho la linea Però in futuro avrò internet Avrò internet senza problemi Nessuno romperà le scatole E tornerò a registrare Perché ho avuto alcuni problemi in famiglia Non mi va di raccontarli Dico anche questi Perché è una cazzata Almeno per me è così Però ognuno la pensa diversamente Dall'altro Comunque come vi stavo dicendo Questo è Monte Blade Come vedete stiamo difendendo Questo castello Dei nemici All'inizio c'è una storia Di una piccola storia In inglese Solo che comunque Mi scocciavo di leggere Non è che mi interessa molto Al fine a me interessa Solo ammazzare gente Sono caduto Sono caduto Non mi sono fatto niente Va bene Io sono Oh cacchio Quanti ne sono qua Vabbè eliminiamoli questi qua Vai Eliminiamo questi qua Comandiamo contro Questi uomini Ho ucciso uno Ho ucciso uno Ho ucciso un altro Ho ucciso un altro Oh mio dio Sono grande Scusate se mi piego Anche con la testa Ma Sai com'è Sono contro tutta sta gente Dai che riesco Dai che ci riesco Ok ragazzi Spero che questo gioco Vi piaccia Perché se Vi interessa Potrei farci Dei gameplay Ovvero Sulla storia Fare una storia Del mio personaggio Ci giochiamo insieme Anche se troverò Un po' di difficoltà Con inglese C'è Però comunque Più o meno Lo capisco Quindi C'è Più o meno Tra virgolette Capisco l'inglese Quindi potrei essere D'aiuto Comunque Cerchiamo di andare Dagli altri nemici E aiutare i nostri alleati Che forse sono in difficoltà Qua su Anche se ho eliminato Un bel esercito Dell'armata Qui giù Oh cacchio Infatti Sono lì sopra Andiamo ragazzi Comunque Vi stavo dicendo Le cose comunque Si sono Diciamo Risolte Ritornerò a fare Gameplay Non vi preoccupate Non mancheranno Più video Almeno una settimana Ne uscirà Sicuramente Senza problemi Questo qui Non so Quando lo metterò Se lo metterò Molto in anticipo Cioè Ovvero Questo febbraio Vi dico Gli altri episodi Usciranno sicuramente A marzo Che sono più rilassato Ho meno Problemi In generale Potrò Sicuramente Registrare Con calma Ho più tempo Comunque Sono solo a casa E Mi trovo Molto bene Registrare Da solo Cioè Il gameplay Come posso dirvi Mi mette molta Ansia Avere persone In casa E registrare Cioè Diciamo che sono Abbastanza Mi mette vergogna Così mettiamo la chiave Quanti cazzi ne sono Vai Allora facciamo così Noi siamo il nord Dobbiamo difendere il castello del nord Andiamo uomini Per gli Stark Se vi state chiedendo Siamo gli Stark E Game of Thrones Sì Sono Mi piace moltissimo A prescindere mi piace molto Le cose del medioevo Buttiamoci giù Tanto non ci rompiamo le corna Davvero non ci siamo rotti le corna Dai ragazzi Possiamo fare Dobbiamo trovare uno scudo Cazzo non ci sono Andiamo uomini Possiamo farcela Anche se sono una donna Ho capito Ogni volta che mi coppiscono Vai Sono Arya Stark Cresciuta E sta È diventata grande E sta recuperando Il regno perduto Dai traditori degli Stark Vai Arya Arya sei forte vai Crediamo in te Vai Arya Crediamo in te Dai cazzo 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 Adesso stiamo Adesso stiamo Dai Ho ammazzato vai Ammazzato 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 Amm Stronzo Dai Possiamo farcela Sono tre Sono tre No cavolo Abbiamo perso Abbiamo perso La difesa Ci vediamo nel prossimo episodio Spero che questo gioco vi piaccia Se vi interessa Comunque vi ho detto Posso farci una serie Tanto è un gioco RPG Il personaggio sarà creato Quindi la storia Comunque sarà A seguirò Come se Da inventare La ventassia Questa storia Di questo personaggio Ecco ci vediamo nel prossimo episodio Ragazzi Ciao a tutti Facciamo un bagno Ok forse no Ok forse no Grazie.